Giornata di cultura di scambio di auguri per le feste e natalizie al liceo Galileo Galilei di Pietimonte Matese in un'aula gremita al limite della capienza ma anche l'occasione per presentare il libro del giornalista RAI Franco Di Mare. Sarò Franco, una sorta di manuale di sopravvivenza che prende origine dalla sua fortunata rubrica televisiva che ha accompagnato il risveglio degli italiani. Ma è lui stesso a dirci di più di questo suo ultimo lavoro letterario, se la regia mandare in un tale immagini. Sarò Franco è il frutto di una rubrica che facevo in televisione uno mattina che si intitolava proprio Sarò Franco. E' uno spazio di libertà che io mi prendo per suggerire una diversa angolazione con cui guardare a fenomeni, a notizie, a temi di attualità che invita chi ascolta, chi guarda la televisione o chi legge i libri in questo caso a considerare che esiste un altro punto di vista oltre a quello che ci hanno raccontato. Perché gli italiani non cantano più mentre si fanno la barba? Perché hanno perso la spinta propulsiva dell'ottimismo che una volta animava i nostri genitori che vivevano con le cambiali, avevano le case costruite a rate, però cantavano perché avevano davanti a loro una prospettiva di sviluppo e un'assenza di paura. Venivano dalla guerra, cosa poteva capitare di peggio? L'unica cosa che avevano davanti era il progresso, la civiltà, il miglioramento delle proprie condizioni di vita. Questa idea è venuta un po' meno e adesso noi non cantiamo più per questo, ma abbiamo la forza per riprenderci. La televisione secondo lei ha dato anche del pessimismo? No, la televisione fotografa la realtà, poi evidentemente esistono anche le responsabilità di chi specula su questa realtà per alimentare le paure e c'è qualcuno che magari su questo ci marcia un po'. Ma in realtà noi fotografiamo l'esistente come fa il Censis che racconta oggi di un'Italia incarognita, di un italiano imbruttito e incattivito. Ecco, forse noi dovremmo recuperare la capacità di sognare. Ecco, per esempio gli studenti, l'ultima domanda che le faccio. Perché dovrebbero comprare il suo libro? Intanto nessuno deve comprare niente, lo comprano solamente se gli va. E poi perché magari ci sono spunti di riflessione su temi che uno immagina di conoscere bene e dei quali io invece offro una prospettiva e una chiave di lettura diversa? Ma in una giornata dal clima festoso, disincantato, organizzato alla perfezione dalla scuola, coordinata poi dalla professoressa Claudia Santomassimo, la preside di Girolamo, che noi abbiamo avvicinato, ha sottolineato il grande lavoro della sua scuola, ma ha anche bacchettato i politici senza sì e senza ma. Sentiamola in questa intervista. Preside, allora oggi è una giornata di cultura perché ospitate un giornalista importante come Franco Di Mare. Perché avete scelto di ospitare un giornalista così importante? Sicuramente per la presentazione del libro, però? Per la presentazione del libro è vero, però Franco Di Mare in tutte, diciamo, nei giorni trascorsi ha dato a noi la possibilità di avviare la giornata con il suo programma sul Re 1, di avviare la giornata dando ad ognuno un momento, spingendo ad ognuno di noi ad un momento di riflessione. Il messaggio della giornata di oggi che io voglio dare ai miei studenti e soprattutto in questo momento delle festività natalizie è quello di avere fiducia perché ce la possiamo fare. Ovviamente con la fiducia bisogna avere anche il supporto delle istituzioni, per esempio sappiamo bene che nel suo istituto manca qualcosa. Ebbene sì, manca una cosa, noi vogliamo lavorare, abbiamo tanta voglia di fare, tutti, a partire dal personale ATA, dagli alunni, dai docenti, vogliamo fare, ma ci manca la casa, dico io, ci mancano le aule. E anzi io ne approfitto ancora per rivolgere un appello agli enti preposti a non abbandonare questa scuola e a mettere in campo tutte le strategie necessarie in modo tale da poter accogliere le prossime iscrizioni, altrimenti ci vedremo costretti a mandare indietro degli alunni del territorio che, ahimè, questo porterà tanto dolore prima a noi operatori della scuola perché non si chiude la porta in faccia a nessuno.